Era una di quelle giornate in cui tra un minuto nevica e c'è elettricità nell'aria, poi quasi sentirla. Mi segui e questa busta era lì, danzava con me, come una bambina che mi supplicasse di giocare per 15 minuti. È stato il giorno in cui ho capito che c'era tutta un'intera vita dietro ogni cosa. È un'incredibile forza benevola che voleva sapessi che non c'era motivo di aver paura, mai. Vederla sul video è povera cosa, lo so, ma mi aiuta a ricordare. Ho bisogno di ricordare. A volte c'è così tanta bellezza nel mondo che non riesco ad accettarla. E il mio cuore sta per franare.